E ora sei parliamo di Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. La coppia che si è conosciuta e innamorata a uomini e donne nel giro di nemmeno un mese. E sono sincera quando parlo di amore con loro parlo proprio di amore con la maiuscola. Questi due mi litigano tutti i giorni come, una coppia di innamoratini freschi freschi. Solo qualche settimana fa vi avevamo raccontato di una possibile rottura che di fatto c'era stata. Ma poi dopo sono tornati insieme più, belli e innamorati che mai. Certo una cosa va detta. Quando questi due qua mi litigano beh meglio stare lontane perché vola veramente di tutto o come l'impresisone. Ma andiamo oltre in questo momento Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si trovano a Napoli dove hanno festeggiato sette mesi d'amore. E poi qualcuna mi dice che è solo business. Foto di Oscar Branzani e Eleonora Rocchini a Napoli. Ecco un paio di belle foto. La prima che vi mostro risale a due giorni fa. Insomma stanno insieme ecco. Inoltre sempre, la coppia ci tiene a ribadire che anche se non pubblicano sempre foto di loro questo non vuol dire che hanno litigato.